Uomini e donne, Gemma e la sindrome di Stendhal. Nella puntata in onda il 9 febbraio la Galgani continua a sostenere che tra Anna e Giorgio ci sia una storia. È il trono vera chiudere la settimana di Uomini e Donne. Si riparte dal finale della puntata di ieri, il cosiddetto bacio d'addio di Rita a Marco fa molto discutere i vari esponenti dei due parterre e innesca le battute ironiche di Gianni e Tina. Ben presto però arriva la notizia, che riapre un ben noto dibattito, Anna e Giorgio hanno fatto pace, mentre a Gemma proprio non va giù, che Anna abbia parlato al telefono anche con la mamma di Giorgio, io invece sono rimasta sul cancello di casa. Ma quando è che tirate fuori tutta questa vicenda dall'inizio, Anna è costretta nuovamente alla replica e alla smentita, sono due anni e mezzo di amicizia sincera. Secondo Marco, Gemma soffre della sindrome di Stendhal, detta anche, guarda caso, di Firenze, perché è lì, al cospetto delle meraviglie artistiche della città sulle rive dell'Arno, che si è più volte manifestata, in questo caso l'opera d'arte sarebbe Giorgio. Si prosegue, Gianni ora dà ragione a quest'ultima e dice di comprendere il suo risentimento, però Gemma ha ragione. La mamma di Giorgio non l'ha mai conosciuta. Ida e Riccardo Ida centro e parte l'erical della scorsa puntata che la vede coinvolta insieme a Riccardo, Sosio, Angelo e il neo arrivato Gianluca, entra in studio a quest'ultimo e si siede davanti a lei, la quale rivela che si sono sentiti poche volte in una settimana e si aspettava più corteggiamento da parte sua, Gianluca spiega che avrebbe preferito vederla di persona, ma Ida lo ringrazia e lo saluta non essendo scattato nulla. Entra in studio Riccardo, dice che si sono sentiti meno rispetto al solito perché era rimasto male di quanto accaduto la scorsa volta e si è preso qualche giorno per riflettere, oggi decide di volersi fare da parte e per Gianni questo è un atteggiamento strano perché sembrava molto preso e lasciare Ida per non dire cosa abbia fatto nel passato è inspiegabile. Riccardo ammette che Ida gli piace e Tina lo invita a raccontare il suo passato se realmente tiene a lei, la dama risponde di non sentirsi sicura di chi ha di fronte, Riccardo le piace e Tina la invita a conoscere solo lui e smettere di conoscere altre persone. Maria gli chiede se a lui andrebbe bene questa cosa, ma Riccardo ammette che dovrebbe pensarci un po' suscitando la reazione della bionda opinionista, Riccardo vuole sapere anche come sia andata a finire con Angelo, quest'ultimo risponde di essere andato a fare colazione con lei e di averle parlato e Ida ammette di aver molto apprezzato le sue parole, Riccardo ribadisce di voler pensare se voglia proseguire con Ida. Si balla. Dopo il ballo, Maria rivela a Adida, che Riccardo si sta sentendo con Donatella e così lei si spiega il motivo del suo tergiversare e precisa che Donatella si stava sentendo anche con Thomas. Sossio e Melania Sossio al centro con Melania, è contento della frequentazione con lei anche se Tina ironizza perché la loro relazione secondo lei finirà presto e Donatella chiede se le abbia inviato il book fotografico come fa di solito accendendo un diverbio in studio. Anche Melania è entusiasta della conoscenza ed entrambi desiderano proseguire. Ballano insieme. Ballano insieme.